La proteina N è una proteina del virus, è una proteina che rispetto alla proteina spike che è all'esterno è diciamo meno esposta e quindi che cosa succede? Succede che essendo meno esposta, minori sono le mutazioni che si hanno sulla proteina N, quindi diciamo il gene è piuttosto stabile, mentre invece sappiamo che i geni che producono la proteina spike vanno incontro a delle mutazioni appunto perché tra vaccini e incontro con i linfociti, con il sistema immune dell'essere umano ovviamente essendo più esposta più facilmente può portare delle mutazioni, come ormai tutti conosciamo. Ora l'intelligenza italica è stata applicata anche nel campo della vaccinazione. Cosa hanno pensato questi dell'Istituto Supersanità? Hanno pensato utilizziamo delle sferule, delle nanoparticelle tipo quelle che si utilizzano probabilmente per il vaccino mRNA come il cavallo di Troia, all'interno però non ci mettiamo un mRNA ma ci mettiamo già una proteina, la proteina N e stanno facendo delle sperimentazioni sugli animali, sembra che i risultati siano veramente ottimi. Cosa succederà? Succederà che quando il nostro organismo entrerà a contatto con questa proteina N, svilupperà degli anticorpi contro la proteina N, ma essendo la proteina N diciamo più stabile, probabilmente riuscirà ad aggredire qualsivoglia virus, qualsivoglia variante, speriamo che sia proprio così. E quindi questa sarà la situazione ottimale per chi si dovrà vaccinare, in quanto ci si vaccinerà una volta all'anno come succede per influenza virus. Perché una volta all'anno e non una volta nella vita? Perché i coronavirus quando incontrano l'ospito umano non fanno generare un'immunità permanente, un'immunità transitoria che dà una protezione mediana che va da 9 a 12 mesi. Ovviamente ci sono soggetti magari più giovani o con una costituzione particolare che riescono ad avere una protezione più lunga e soggetti immunodepressi o anziani che hanno una protezione più breve, anche di 4-5 mesi, forse anche meno. Mentre invece io faccio sempre il raffronto con il morbillo. Il morbillo quando incontra l'ospito umano dà una immunità permanente, così come quando noi facciamo il vaccino antimorbillo che è un virus vivo attenuato, noi abbiamo un'immunità molto duratura e talora magari facciamo una dose booster, però certe volte è sufficiente anche una sola inoculo di questo tipo di vaccino, che appunto nell'essere umano produce anticorpi a vita. E quindi, tornando al discorso dei coronavirus, è ovvio che noi dovremmo vaccinarci una volta all'anno. Ci si vaccinerà una volta all'anno, magari prima dei mesi freddi, come facciamo per influenza virus, ma solamente se questo coronavirus negli anni manifesterà ancora una certa patogenicità. Se fra qualche mese o qualche anno, speriamo, dovesse diventare a patogeno, ovviamente noi non ci vaccineremo perché ci darà solamente poco fastidio, ci ci darà il raffreddore comune.